buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla nostra lettura di oggi giriamo subito le nostre carte studenti e non studenti se volete esercitarvi un pochino vi consiglio come sempre di mettere in pausa il video e noi cominciamo cominciamo subito mentre voi studiate la vostra personale interpretazione tutto comincia con un novizio di bastoni sarebbe il fante di bastoni andiamo avanti con un sette di coppe e con una ruota della fortuna quindi come energie centrali e generali tutto inizia con una incapacità di prendere iniziative un'incapacità di fare una mossa di essere decisi stiamo lì a guardare il nostro bastone potremo tirarlo potremo lanciarlo potremo colpirci qualcuno potremo intagliare il bastone il legno per farne diventare una scultura potremo fare qualunque cosa con questo bastone pure piantarlo a terra e lasciarlo lì e invece noi stiamo a guardarcelo noi ci guardiamo e ci riguardiamo il bastone fra le mani senza essere sicuri di come usarlo perché cosa vuol dire vuol dire che noi abbiamo a disposizione in questo momento della nostra vita tante opzioni tante possibilità di agire di azione ma non agiamo stiamo fermi immobili perché non siamo sicuri che le nostre azioni sarebbero quelle giuste quelle che in effetti ci conviene fare e allora ecco che con il nostro fante noi stiamo lì buoni a guardare cioè insomma un po' come una giornata o dei giorni in cui stiamo lì a guardare attorno che cosa accade stiamo buoni buonini aspettando l'occasione per agire però questa occasione non arriva e quindi noi continuiamo a stare buoni buonini pronti però ad agire sempre pronti ad agire con un fuocherello acceso che teniamo sotto controllo questo fuocherello ragazzi il fuoco della passione il fuoco come elemento inteso in senso esoterico l'energia che spinge ad agire noi ce l'abbiamo il fuocherello acceso noi ce l'abbiamo quel qualcosa che cattura la nostra attenzione che ci tiene lì attenti c'è questo qualcosa ma lo stiamo un po' guardando da lontano lo stiamo guardando ecco dall'alto al basso non di certo non stiamo prendendo quel fuoco e non lo stiamo usando il sette di coppe il sette di coppe ci dice che forse il motivo per cui non lo stiamo usando quel bastone è perché ci sono cose losche dietro situazioni un po' complicate in cui non dobbiamo fidarci non dobbiamo fidarci e o magari è qualcuno che non dovrebbe fidarsi al cento per cento di noi c'è qualcosa che non va questo è un sette di coppe che è molto diverso dalle nostre carte dai nostri tarocchi universali qui parla proprio di un qualcuno che vuole avvelenare qualcun altro per ucciderlo ovvio che nella nostra vita di tutti i giorni ragazzi nessuno ci vuole avvelenare per ucciderci o meglio uno su un milione sì quindi chi se la sente che stia attento e che controlli il cibo le bevande prima di berle e mangiarle però nella nostra vita normale nella nostra quotidianità è come se qualcuno volesse farci bere qualcosa in proprio nel vero senso della parola quando è che si dice non me la sono bevuta voleva farmela bere quando ci viene raccontato qualcosa che non è vero e magari chi ce lo racconta spera proprio che noi ci crediamo questa donna sta versando una roba dentro il bicchiere che verrà bevuto da questo a sua insaputa quindi se figurativamente abbiamo un veleno e metaforicamente c'è qualcuno che vuole farci bere qualcosa a nostra insaputa ragazzi ci vogliono convincere di qualcosa che non è vero ci vogliono inculcare dentro la testa cose che non cose che distoglierebbero la nostra attenzione dalla realtà quindi dobbiamo stare veramente molto ma molto attenti con questo tipo di energie anche perché siamo siamo rimbambiti cioè noi stiamo qua che non ci accorgiamo proprio di nulla nel mondo dei sogni ruota della fortuna ecco che qualunque cosa appunto stia accadendo gli eventi fanno girare la ruota e per fortuna e per fortuna gli eventi sembrano girare dalla nostra parte cambiando le carte in tavola di quello che stiamo vivendo e delle persone che insieme a noi stanno vivendo questa esperienza sono veramente curiosa oggi di sapere di che si tratta relativamente alle vostre storie personali voi sapete che questa prima parte della stesa può riguardare qualunque elemento della vita amore lavoro famiglia finanze progetti amicizie qualunque cosa e con questa con questa carta con questo qualcuno che cerca in qualche modo di avvelenarci e di intossicarci con qualcosa che noi non conosciamo con qualcosa che non ci viene detto bene io sono veramente incuriosita dal sapere che cosa ci sta accadendo che cosa vi sta accadendo quindi se ne avete voglia raccontatecelo poi voi sapete che i miei studenti fanno sempre comodo i vostri racconti per imparare a elaborare le stese ma adesso andiamo più nei dettagli e vediamo che questo fante di bastoni è anche accompagnato dalla carta delle notizie e della seduzione manipolatoria ed ecco appunto che ci siamo ci siamo ulteriori chiarimenti vengono a galla in realtà questo fante di bastoni non sa cosa farci col suo bastone dopo aver ricevuto una notizia o delle notizie dice adesso che cavolo me ne faccio di queste notizie non sempre non sempre si può facilmente prendere una decisione e agire in 4 e 4 8 anzi se queste notizie sono di seduzione o di manipolazione è proprio questo il problema il nostro fante sta scoprendo che qualcuno cerca di manipolarlo o che qualcuno cerca di manipolare qualcun altro che magari fa parte della nostra vita ed ecco che questa manipolazione si riallaccia al nostro sette di coppe ci vogliono far bere qualcosa l'altra carta è quella della malattia pazzarola l'infermità non voglio più saperne nulla beh mi sa che hanno finito di manipolare hanno proprio finito di manipolare forse qualcuno aveva potuto farlo fino ad oggi ma con questa notizia con questa presa di coscienza e di consapevolezza no non siamo più manipolabili o la persona che lo era prima non lo è più e non solo adesso questo qualcosa che prima volevano farci passare per buono adesso noi ci accorgiamo di quanto ci fa male la carta dell'infermità della malattia ci fa vedere che finalmente esce alla luce il male che ci hanno fatto o che ci stanno facendo con queste bugie o con queste cose voglio anche dare un'ulteriore interpretazione che riguarderà ovviamente una minima parte e riguarda il mondo delle droghe state attenti perché se avete per caso il fidanzatino che vi dice prova questo e prova quello e prova quell'altro e alla fine ci cascate con tutte le scarpe poi sono problemi vostri capita capita soprattutto in certi ambienti capita soprattutto dove i ragazzi dove i giovani non hanno una vita pagante e quindi magari si possono rifugiare nelle droghe per non sentire il vuoto della loro vita o per non sentire il dolore provocato da varie situazioni però è molto facile che qualcuno ci porti su quella strada è veramente molto molto facile ma quando noi ci accorgiamo che andare in quella strada ci fa male ecco che siamo in grado di dire no basta oggi o questi giorni saranno giorni in cui diremo no basta non voglio più saperne nulla di questa cosa di questa roba ed ecco che tutto cambia ed ecco che le stagioni cambiano ruotano la nostra ruota della fortuna ci dice che finalmente arriva il cambiamento e non solo abbiamo la ruota della fortuna abbiamo anche l'angelo che ci annuncia il cambiamento e che ci dice ragazzo o ragazza puoi fare di più puoi dare di più ma in che senso fare o dare dobbiamo dobbiamo essere più generosi con gli altri non credo che queste carte si riferiscano a cose del genere poi magari qualcuno sì perché ci sono persone che vivono in un egoismo cronico che sarebbe anche meglio che cominciassero a lavorarci sopra ma al di là di quello qui siamo noi che dobbiamo fare e dare di più a noi stessi se si tratta di droghe alcol o schifezze che provocano dipendenza mollate mollate perché dobbiamo dare di più a noi stessi e sta roba ci offusca se si tratta invece di qualcuno che ci ha manipolati e che adesso viene rimesso in riga e che non sarà più in condizioni di manipolarci basta liberiamoci da queste schifezze cambiamo nella nostra vita quello che ci serve per star davvero bene e facciamo di più per noi stessi questo è il senso oggi di questa stesa molto carina devo dire sono contenta sono curiosa di sapere che cosa mi accadrà quando questa stesa uscirà voi sapete che io quando faccio queste letture non mi voglio fare condizionare dalle date quindi non so che giorno uscirà questa stesa ma sarà una sorpresa anche per me ora andiamo a vedere il nostro sacro maschile e il nostro sacro femminile che cosa combinano di bello cosa accade alle nostre energie più sentimentali romantiche e sessuali ed ecco che abbiamo da un lato il nostro sacro maschile con un bel 10 di scusate con un bel 5 di denari e il femminile con un asso di bastoni spettacolare tra l'altro ragazze guardate questo asso di bastoni dunque il nostro maschile tanto contento non è tanto contento non è anzi sembra proprio che il maschile stia perdendo qualcosa sembra che gli abbiano rubato qualcosa da sotto agli occhi qualcosa che lui custodiva preziosamente e invece no questo qualcosa è sfumato per magia e di certo il maschile non è per niente contento ma anzi anzi questo è un maschile che probabilmente è arrabbiato con qualcuno con qualcosa o arrabbiato con qualche personaggio che gli ha tolto dalle mani quello che aveva qualche personaggio che ha combinato qualcosa oppure è un maschile che sta arrabbiato con la situazione arrabbiato con il destino con il fatto crudele che crede che il mondo ce l'abbia con lui che crede che l'universo sia contro di lui e che insomma è meglio che stia buono con le emozioni perché non vorrei che finisse a litigare questo è un maschile che non si fida del femminile questo è un maschile che ha paura che il femminile gli rubi qualcosa gli tolga qualcosa e non si sente sicuro per niente ci sono infatti aggiungiamo questi problemi di fiducia e un infiltrato e allora sì e allora sì qui c'è un maschile che ha paura della concorrenza qui c'è un maschile che ha paura delle infiltrazioni e quando parliamo di infiltrazioni in amore ovviamente possono significare terzi incomodi quindi competitors concorrenti com'è che si dice mi mancano le parole in italiano ogni volta comunque quando arriva qualcun altro che vuole fregarci da sotto le mani l'uomo la donna è un infiltrato e noi lo vediamo come un nemico lo percepiamo come un nemico ma in questo caso il maschile non si fida nemmeno del femminile cioè il maschile ha paura che il femminile possa davvero essere interessato a qualcun altro e quindi rivolgere le proprie attenzioni ad un competitor e qui il discorso ah ok qui il maschile ha paura che gli freghino la donna da sotto da sotto gli occhi se non è già successo e ovviamente ragazzi quando noi parliamo di maschile femminile non mi riferisco a uomo e donna in senso genetico ma mi riferisco ad energie che ciascuno di noi canalizza quindi ecco il nostro maschile indipendentemente dal fatto che noi siamo uomo o donna se questo è quello che stiamo canalizzando ha paura proprio di perdere l'altra persona paura che gliela rubino che qualcuno gliela rubi invece il nostro femminile è all'inizio di un qualcosa di nuovo e di un qualcosa anche di molto piacevole e di molto interessante qui c'è un femminile che guarda bene qua c'è un femminile che ha visto qualcosa di interessante ed è per questo che è pronto ad agire ed è pronto a una nuova avventura un femminile che va alla ricerca della prosperità alla ricerca di qualcosa di meglio di quello che ha avuto finora e che è indeciso tra questo è un'altra persona ed eccoci arrivati al nocciolo della situazione tutto parla di corna qui ma non perché le corna sono state davvero fatte non è detto magari per qualcuno sì ma non è detto molti ne hanno solamente paura o hanno solo il sentore che ci potrebbe essere una situazione extra a rompere le scatoline quindi quindi qui abbiamo un un femminile che deve capire davvero quello che vuole perché sicuramente il femminile vuole vivere nell'abbondanza emotiva vuole star bene emotivamente non è un femminile che si vuole accontentare di un maschile arido o comunque squilibrato quindi se questo femminile ha conosciuto un'altra persona e ripeto uomini o donne che voi siate il vostro lato femminile può aver conosciuto qualcosa di meglio può essere indeciso in questo momento ed ecco che può scegliere di creare delle condizioni come delle cene a quattro o comunque come delle insomma il femminile può scegliere di creare dei momenti di incontro dei momenti in cui si ci può conoscere insomma stiamo attenti perché questo è un femminile che nei casi più estremi è pronto a fare le corna proprio tranquillamente nei casi meno estremi no nei casi meno estremi si tratta solo di un femminile che ha l'occhio vispo che si sta guardando intorno e che certo non è stupido perché non si accontenta di qualunque cosa ma vuole qualcosa di bello qualcosa di piacevole andiamo adesso andiamo oltre e andiamo a vedere i nostri angeli che cosa hanno da suggerire ovviamente ragazzi se volete una sessione privata sapete cosa fare sito internet email eccetera eccetera invece se volete diventare miei studenti di qualunque cosa quindi o di tarologia con il metodo maya o di magia d'amore telepsichia oppure se volete fare un percorso di crescita spirituale un po più centrato su di voi esiste il percorso di psicologia karmica ed energetica potete chiedere informazioni tramite sito tramite messaggio whatsapp o tramite quello che volete e noi adesso dobbiamo prendere una cartina che non è voluta uscire noi la prenderemo così con un 6 di aria con un 6 di aria che ci dice che le cose si stanno sicuramente mettendo nel modo migliore e che se c'è stata una situazione difficile questa situazione difficile o è finita o sta per finire anzi potremmo proprio dedicare finalmente un po di tempo a qualcosa di diverso magari a fare qualcosa di nuovo a una gita un viaggetto una cosa di gruppo una cosa intima comunque ecco uno spostamento potrebbe proprio essere un buon momento per fare uno spostamento non chissà cosa non andare dall'altra parte del mondo sulla luna però qualcosa per svagarsi qualcosa per anche per festeggiare la fine dei problemi o l'arrivo delle belle cose ecco e quindi ragazzi con questo io come sempre vi mando un abbraccione e noi ci vediamo a domani